ciao a tutti sono tommy dell'olio vi do il benvenuto come sempre nella mia regia di mix nel mio studio di registrazione e vi do il benvenuto per il trick del mese oggi come dice il titolo vorrei fare un tutorial su come utilizzare la compressione sulla batteria attenzione bene questo non è un tutorial su che so qual è la regolazione migliore di un compressione in termini di attacca release piuttosto che è meglio un 1176 o un ssl compressor o quello che volete voi sulla cassa piuttosto che sul rullante piuttosto che sugli overhead anche perché ci sono un'infinità di tutorial in rete penso che ormai l'argomento sia saturo in passato anch'io ho trattato con tecniche che reputavo un po più particolari questo tipo di argomenti ecco comunque non parleremo di questo sì chiaro io un paio di compressori ovviamente le aprirò quindi i settaggi che utilizzerò per l'appunto su cassa rullante ve li farò vedere li vedrete sono sullo schermo ma non è quello il focus del tutorial anche perché onestamente non c'è un settaggio giusto uno sbagliato dipende da quello che voi state cercando si può regolare l'attacco lungo release veloce come fare esattamente l'opposto secondo che voi vogliate enfatizzare attacco sasten e questo penso che molti di voi che mi stanno guardando che sono fonici già queste cose le conoscono ecco io ripeto ancora una volta non vorrei vedere queste cose ma come questo vorrei vedere come utilizzare e integrare in termini di gestione d'insieme quindi in termini di gestione dei livelli quindi in termini di game staging come utilizzare correttamente un compressore come essere sicuro che il mio compressore stia aggiungendo effettivamente solo ed esclusivamente compressione e non stia alterando il volume come essere sicuro che il mio compressore mi stia controllando la dinamica ma senza avere perdite o guadagni su quelle che sono le frequenze chiave quindi le fondamentali ecco tutto questo è molto importante potrei riassumere dicendovi come lavorare veramente in unity gain che non è il a orecchio vediamo se più o meno va bene oppure guardo il meter del compressore mi sta levando 4 di b e gliene do 4 di make up gain ecco no cercare di vedere effettivamente come matchare i compressori perché questo è un concetto fondamentale in realtà chi mi segue lo sa per me il mix è la gestione del game il controllo la consapevolezza che voi avete della struttura del game e mi vorrebbe da dire la struttura del game stessa che voi scegliete perché non ce n'è una giusta e tutte le altre sbagliate ci sono moltissime strategie diverse di mix io posso utilizzare diversi setup di livelli a seconda delle tecniche che voglio utilizzare ovviamente a seconda di dove voglio arrivare io devo avere un punto di partenza devo avere dei livelli di partenza devo avere un rms di arrivo questo l'avevo già anche spiegato in parte nei video qualche mese fa per chi li ha visti e chi non l'ha fatto lo invito a farlo riguardanti il quick mastering io quando lavoro devo sapere quello che sto facendo non posso viaggiare a fari spenti nella notte io ho dei livelli di partenza ai quali impostare i fondamentali ogni volta che mix una canzone quindi a un punto di partenza preciso ho delle tecniche quindi alla mia routine di mix che però mi devono portare sempre lo stesso livello in termini di rms di mix finito così che io posso sapere quanto poi devo andare ad aggiungere in mastering e in questo modo tutto sotto controllo e se i valori tornano io sono sicuro che il mio prodotto suona correttamente io questo ho imparato a farlo ovviamente lavorando con l'esperienza ho imparato a farlo in maniera ancora più approfondita in tutta la parte di lavoro che ho dedicato che potete ascoltare sul mio sito tomidellolio.com relativamente ai remix quando ho fatto i remix di canzoni importanti mixate da fonici importanti mi sono trovato ad avere in playlist il mix di serra manganea o il mix di spike stand o il mix di toni maserati quindi in quel caso io devo avere sotto controllo tutto per essere sicuro che il mio mix una volta che decido che è chiuso lo mando in master e mi ritorna dal master che suona forte e bene si spera insomma ordinato esattamente come le release commerciali non devo stare con le dita incrociate ad aspettare il master per poi correre in studio a sentirlo per dire vediamo com'è non so già com'è lo so già com'è perché ho misurato tutto prima quando io mando il mix so già che quel mix ton era masterizzato in un determinato modo ecco tutto questo discorso proviamo ad applicarlo anche alla gestione della compressione quindi io decido di comprimere una cassa decido di comprimere un rullante o magari perché no voglio comprimere un rullante vi farò vedere proprio questo fra i vari esempi e sono indeciso su usare un compressore ad un altro qual è quello che funziona meglio quello che so che spinge più forte che si fa sentire di più oppure quello che mi enfatizza meglio il rim shot lasciando un po più indietro le ghost notes oppure l'esatto opposto che mi parifica i colpi forti e colpi piano quindi che mi valorizza molto di più il volume delle ghost notes ecco io se non ho una strategia di gestione dei livelli che mi permetta di mettere veramente in unity gain tutte queste unità quindi tutti questi plugin come faccio a scegliere questo esattamente ciò di cui vorrei parlare oggi con voi quindi direi stop con le chiacchiere spostiamoci sul pro tools e vi faccio vedere tutto benissimo eccoci qua davanti al pro tools allora direi come prima cosa vi faccio ascoltare un frammento della nostra batteria completamente flat come è stata ripresa e registrata così è vado ok allora partiamo dalla cassa ma prima ancora forse partiamo da un concetto che secondo me è fondamentale cioè io in questo tutorial non voglio insegnarvi come si fa utilizzare un compressore ci sono già un'infinità di tutorial in rete a riguardo non voglio insegnare e fra l'altro anche sul mio canale ne trovate non voglio insegnarvi qual è il settaggio giusto per comprimere la cassa o per comprimere l'ulante anche perché ragazzi non esiste potete avere un settaggio un setting stavo dicendo e il suo esatto opposto diciamo che un compressore da solo vuol dire tutto vuol dire niente dipende da cosa volete ottenere volete enfatizzare l'attacco volete enfatizzare il sustain cosa manca alla vostra batteria che quindi state cercando di aggiungere col vostro compressor insomma la casistica sarebbe infinita ecco non è questo senso del tutorial che cos'è qual è il senso di questo tutorial è come integrare a livello operativo il compressore all'interno del vostro balance di batteria per questo secondo me è l'argomento più importante e qui apro un'altra parentesi prima di partire con la parte operativa del nostro del nostro tutorial mixare ovviamente io lo dico sempre l'ho detto tante volte vuol dire tenere sotto controllo i livelli vuol dire avere una strategia in termini di game staging sapere da dove si vuol partire sapere dove si vuole arrivare e di conseguenza decidere cosa fare per creare questo percorso quindi prima di tutto io metto in solo la cassa e vi faccio vedere una cosa io ho regolato il volume perdonatemi non lo trovo più ma ce la posso fare a recuperare il mio analizzatore di spettro ecco qua ci sono dicevo come avrete notato ogni colpo di cassa aveva la fondamentale cioè la frequenza più importante in termini di decibel che è la frequenza dove la cassa spinge più forte mi vorrebbe da dire cioè la parte grave noi abbiamo le basse le alte nel nostro tamburo quindi la parte grave che è quella più importante quella dominante avete visto che era stata regolata e non a caso ovviamente in modo da arrivare a meno 10 che può essere 10 può essere 11 può essere 9 dipende chiaramente non è un sample però il batterista suonato molto bene la cassa più o meno aveva un'oscillazione di meno di un db tac era sempre lì allora il senso qual è ovviamente la premessa è che per poter mixare dovete avere uno schema di gestione dei livelli io questa cosa la insegno in maniera molto molto approfondita nei miei percorsi personalizzati che faccio di corsi di mix sia qui in presenza nel mio studio sia via skype ci dedico tanto tanto tempo e perché credo che sia la base di tutto e da lì parte proprio il nostro tutorial perché il senso quale apro un compressore tra virgolette uno dei miei preferiti ok sui tamburi della batteria come vi ho anticipato all'inizio del video io qui ho fatto un settaggio che mi piace in linea di massima quasi sempre che non è quello giusto ma riflette quello che io cerco quando vado a comprimere il close mic quindi il microfono che sta vicino il microfono dedicato al singolo fusto la cassa rullante al tom quindi parliamo un secondo velocemente della regolazione abbiamo attacco lungo 30 millisecondi release veloce 100 millisecondi rapporto di compressione 4 a 1 da cui partiamo allora come regolare correttamente un compressore beh facendo una cosa molto semplice cominciamo a decidere più o meno quanti sono i db di compressione che vogliamo impartire al nostro suono e lo decidiamo col make up gain nel mio caso 3 è un valore che mi piace poi come vedrete 3 db di make up gain corrispondono a un po' più di 3 db di compressione ma questo non è dipendente se voi ci pensate non è che io posso dire metto il make up gain a 3 faccio comprimere di 3 db e sono tornato in unity gain e no perché è chiaro che a seconda di come io regolo l'attacco per esempio cambia tutto cambia la quantità di suono che passa prima che il compressore si accenda quindi questa secondo me è la parte interessante di questo video e di questa tecnica che vi sto spiegando noi decidiamo il settaggio che più ci piace in questo caso io scelgo questo decidiamo indicativamente quanti db vorremmo comprimere li diamo in make up gain e cosa succede? succede questa cosa qua io adesso vi faccio vedere il plug in vedete che io in accordo col meter poi non so se è perfettamente calibrato o no ma teniamo buono di sì ho una compressione che arriva che va oltre i 4 db secondo me arriva forse anche fino a 5 però in questo modo io ho attivato il mio compressore in modo da far sì che a compressore acceso compressore spento il volume dove importa di più cioè sulla fondamentale del mio suono non cambia minimamente se io adesso faccio una B sono veramente unity gain capite che così è bellissimo lavorare è comodissimo è precisissimo io posso veramente sentire se l'azione del compressore mi piace oppure no in un contesto perfetto perfetto veramente lo ripeto ancora una volta perfetto di unity gain io sono perfettamente unity gain e questa cosa qua secondo me è comodissima e come faccio a raggiungere questo risultato? beh come avete visto regolo prima la quantità di make up gain normalmente a me piace il 3 3 db secondo me sono la quantità reale di volume che voglio abbattere sulla fondamentale e dopodiché giro la threshold fino a che il mio suono non ritorna esattamente al suo volume di partenza in questo caso meno 10 la stessa cosa sul rollante sentite come suona guardate fantastico senza compressore sono lì attorno al meno 10 ovviamente pur sempre un essere umano caspita che sta suonando non è una drum machine accendo il mio compressore stessa cosa oscillo attorno al meno 10 esattamente come prima però il suono sentite quanto ha cambiato caspita ma in tutto e per tutto scusate bevo un goccio di caffè che l'ho lasciato qui sennò si fredda dicevo in tutto e per tutto il mio suono cambia in termini di sustain in termini di attacco in termini di timbro però io in questo modo quindi utilizzando per me è anche abbastanza naturale questo è lo strumento che io utilizzo per controllare quasi tutto nel mix io con l'analizzatore di aspetto faccio praticamente tutto più un picmeter, vmeter che è questo che vedete qua sulla sinistra con questi due tool eccoli qua con questi due tool io vado a monitorare tutto quello che mi serve di un mix quindi utilizzare questo strumento cioè l'analizzatore di spettro anche per andare a regolare in unity gain è chiaro che non farei mai una roba del genere su una voce per esempio non mi interessa su una chitarra acustica non mi interessa ma sugli strumenti mi verrebbe da dire richiedi transienti ma in questo caso direi soprattutto sui fondamentali io sul volume di cassa e sul volume di rullante è come se fossero le fondamenta della casa ci costruisco il mix quindi il fatto di regolare il mio plugin in modo che sia perfettamente in unity gain io in qualunque momento anche a fine mix prima di stampare il master posso dire ma alla fine mi piace di più con o senza il compressore poi tenete presente che chi mi segue lo sa io normalmente non utilizzo compressori sulle batterie ho il mio modo di mixare chiamarlo stile forse anche eccessivo ma insomma il mio modo la mia estetica ecco quindi io sono più per il non utilizzare i compressori c'è anche da dire che io lavoro prevalentemente prevalentemente con batterie elettroniche quindi andare a comprimere un sample lascia un po' il tempo che trova su una batteria molto classica come questa suonata è chiaro che un po' di compressione lì allora piace anche a me mi piace anche senza la batteria suonata però questo non è importante il mio gusto la cosa importante è che io lavoro in maniera super controllata per quanto riguarda i livelli quindi posso accendere e spegnere in qualunque momento non cambio il livello cosa vuol dire non cambiare il livello dello strumento soprattutto se è un strumento importante vuol dire non cambiare l'insieme del mix perché è chiaro che se io accedendo o spegnendo un plugin sulla cassa vado ad alzare o abbassare questa di 2 o 3 dB e mi cambia anche tutto il resto quindi sono quei plug se voi non lavorate in unity gain soprattutto sui punti chiave vuol dire che il plug una volta che l'avete regolato non potete più tornare indietro se lo spegnete dovete risistemare il livello del segnale dello strumento perdonatemi e quindi non ha più senso come dire vi precludete qualunque possibilità di tornare indietro invece così è comodissimo e poi altro caso beh a me è capitato un sacco di volte sarà capitato anche a voi io qui ho preparato sul rullante due compressori questo che avete appena sentito e questo sono in una situazione in cui sono indeciso fra quale di questi due molto diversi li ho scelti a posto ovviamente molto diversi questi due compressori quale uso? utilizzo l'SSL? utilizzo l'1176? boh classico caso proviamo sentiamo uno e l'altro vediamo quello che ci piace di più provo a farlo con voi mi ha tremarello no scherzo sentite l'1176 come suona di più poi vabbè il di più di meno è sempre da contestualizzare non è detto che ciò che fa diventare il vostro suono più grosso sia esattamente quello che vi serve in mixing mix all'insieme dalle parti però al di là di queste cose sono due compressori molto diversi che fanno suonare il rullante in modo molto diverso uno dall'altro ma poi cambia proprio anche l'esposizione della parte del suonato del musicista cioè con l'1176 sentite si sentono molto di più anche le ghost questo compressore è molto più trasparente cioè trasparente è un parolone però molto più rispettoso della dinamica originale ha il rapporto di volume che c'è fra il rimshot e la ghost rimane uguale invece se io vado a mettere lui tac le ghost vengono su caspita se non ne perdo più neanche una poi tartasi di vedere se ha quello che volete ma se è la cosa che state cercando lui ve la può dare ma guardate la cosa interessante siamo sempre lì attorno al meno 10 belli inchiodati quindi in questo modo io vado a con l'ausilio di un analizzatore di spettro io vado a regolare il mio compressore in modo che sia sempre io lo chiamo unity gain però diciamo matchato sulla fondamentale sul volume di decibel della fondamentale di ciascun suono a quello che è dal suono pre-compressione e questo rende facilissimo il poter scegliere se preferisco con o senza compressione e contemporaneamente rende anche oltre che reversibile io a metà mix decido ma sai che fammi sentire senza compressione mi piace di più mi piace di meno clic clic e so che la mia cassa il mio rullante rimangono a meno 10 io guadagno aperto quello che il plugin mi dà ma il volume rimane identico e poi è anche molto più comodo se ho un pizzico di indecisione se devo decidere se utilizzare un plugin oppure un altro in questo modo diventa semplicissimo perché io me li preparo tutti i matchati e poi passo ok da uno all'altro diventa comodissima questa cosa qua quindi io vi consiglio di lavorare in questo modo per quanto riguarda la gestione dei compressori soprattutto sui fondamentali cassa rullante proviamo a sentire nell'insieme di tutti i microfoni come si comportano i nostri due compressori parto dallo spento un'impegno ok la differenza è chiara sia con l'SSL sia con l'1176 poi deciderete voi se metterlo oppure no deciderete voi qual è quello che si sposa meglio col mood della canzone ripeto è semplicemente una questione di gusti però io spero con questo tutorial di avervi dato un suggerimento in più un'idea in più su come andare a livello proprio di pratica di mix ad integrare nel percorso il vostro compressore in modo che rimanga veramente perfettamente unity gain è un sistema secondo me comodissimo e io lo uso molto anche perché vi confesso che spesso un po come tutti i fonici no a seconda di quello che mi trovo delle volte c'è la canzone che ok tita tata tata suona bene a posto la chiudo delle volte c'è la canzone che magari sul singolo strumento ho un po di indecisione se mettere quello quell'altro allora prepararmi plug in in questo modo in unity gain mi permette poi magari anche che ne so mi fermo faccio una pausa ritorno in regia provo un due tre qual è quello che mi piace di più sono tutti matchati sento effettivamente la differenza di processi e non di guadagno di volume quindi in questo modo cioè con l'analizzatore di spettro matchare i livelli secondo me è comodissimo io vi invito a provare spero che questa tecnica vi possa essere d'aiuto ma sono sicuro di sì perché proprio una pratica come dire quasi matematica ecco quindi sicuramente vi aiuterà a gestire al meglio l'integrazione dei compressori delle unità di dinamica all'interno dei vostri mix vi auguro buon mix come sempre e ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti